Buonasera cari amici, ospite di questa sera è Enrico Capanera, un personaggio che io ho seguito da molti anni con grande attenzione e poi successivamente con ammirazione per lui e con quegli altri tre i suoi soci, amici che lui ha sempre definito i quattro ragazzi al bar, che un giorno su idea di uno di questi quattro ragazzi che si chiama Mainardi, che ha avuto un'idea, hanno creato un'azienda che faticosamente all'inizio ha avuto cinque collaboratori dopo pochi anni questo signore ha guidato un'azienda che in due anni ha fatturato 250 milioni di euro poi naturalmente arriva l'alluvione, arriva la neve, arriva la crisi economica eccetera e anche loro hanno risentito della crisi, anzi risentito in maniera sostanziosa perché le banche naturalmente hanno dovuto restringere i fili, perché i clienti che ne hanno tanti naturalmente si sono guardati bene da mantenere i loro doveri di pagamento eccetera e quindi hanno avuto momenti piuttosto duri l'ho seguito con molta attenzione e oggi l'ho invitato perché ho visto con molto piacere che sono riusciti a superare questa crisi che non è stata lieve, che non è stata facile né per loro né per il mercato in generale e hanno ripreso la loro posizione allargando addirittura i confini che adesso come sentirete si stanno allargando e sono allargati in altri paesi intanto grazie di essere venuto qui sotto il fuoco di che amico di Alciomori grazie a voi allora parliamo di Energy Resources questa creatura che veramente è nata da, come ha detto lei una volta, al bar parlando con amici come è venuta fuori l'idea di allora? da cosa è partita questa fiammella? da uno spunto, un'intuazione del più giovane, Mainardi che è anche un etano doc che come ho raccontato più volte rifletteva sulla sostenibilità e sul futuro del sistema energetico nazionale che intravedeva varie possibilità di interventi sull'efficienza energetica, sulla mobilità sostenibile su energie rinnovabili cioè quelle erano le mancanze che secondo lui c'erano maggiormente da poter intervenire ma io le riassumo in tre parole, è una cosa che ho detto più volte partono dai problemi reali del traffico, l'inquinamento dal traffico, l'inquinamento delle fabbriche e anche l'inquinamento delle abitazioni residenziali partendo dai problemi le risposte sono state energie rinnovabili il fotovoltaico in primis ma anche geotermico, eolico, ecogenerazione l'efficienza energetica, far consumare meno ciò che già esiste e che magari non è appunto efficiente mobilità sostenibile, dare una risposta ai centri urbani a diminuire le emissioni di CO2 e di polveri sottili nelle città Io leggo i nomi delle grandi aziende, per le quali avete fatto degli impianti molto importanti la Tozze, Guzzini, la Rainbow, la Ferrari, i Gino Strazi eccetera ma parleremo poi di questo, mi interesserebbe, sono sempre molto curioso Qual è stato il primo provvedimento, la prima idea realizzata dei quattro ragazzi al bar? La prima, proprio Chiamare tutti i nostri clienti fidelizzati perché io e l'ingegner Lucchetti venivamo da uno studio tecnico di progettazione di impianti e abbiamo proposto ai nostri vecchi clienti le energie rinnovabili da veri imprenditori quali sono, a quel tempo c'era Lardini, i signori Rossi di Pesaro e altri hanno colto subito l'occasione e lì è iniziato il meccanismo del passaparola, della catena e dei clienti sempre più blasonati ma noi non ci scordiamo dei primi che ci hanno dato più luce Ecco, lei si ricorda il primo, primo cliente, il primo ordine che ha avuto? Secondo me il primo è quello dei signori Rossi Cosa facevano? Allestimenti bar e filiali bancarie Si chiamava la Rossi Dimension che poi è stata ceduta al gruppo IFI Loro hanno fatto un bellissimo albergo, ristorante, centro benessere una country house a Tavuglia nel paese di Valentino Rossi E tutt'oggi questa è una country house che dal 2006 ha 25 camere ha zero emissioni, non ha combustibili fossili e proprio i problemi erano nati dalla difficoltà di portare le alimentazioni a GPL o a metano costi e problematiche di emissioni e quindi è una delle prime country house inserite nel circuito Green Community Area che è un circuito proprio internazionale di benessere ecosostenibile Io per 65 anni di carriera di lavoro so che è difficile reperire un cliente nuovo soprattutto se è importante leggo dei nomi per non dimenticarmi neanche uno che si chiamano Tots la Ferrari Tontarelli la Rainbow avete fatto degli impianti in alcuni stadi ma poi autostrade per l'Italia ecco come si fa come potete presentarvi a questa gente perché vi sceglia perché siete bravi perché siete attrezzati perché avete una diligenza riconosciuta ma è un mix di cose molti ci chiedono come abbiamo fatto arrivare a questi tipi di clienti in realtà partendo prima noi nel 2005 parlavamo di fotovoltaico ora se ne parla forse anche troppo ma di geotermia anche Straffi per esempio uno dei pochi che ha l'azienda a zero emissioni la casa a zero emissioni mobilità a zero emissioni quindi un'azienda importante come la Rainbow che già è un'innovazione di per sé per la propria attività non poteva che non avere una sede avanzata e qui nella zona a quel tempo c'eravamo solo noi poi sono arrivati per fortuna in tanti perché questo è un mondo bello perché la concorrenza in realtà non è una vera concorrenza ma è un altri che aiutano l'ambiente quindi è bello questo lei ha usato il termine concorrenza che in pratica dice non esiste quali sono le vostre forze principali per abbattere questa eventuale concorrenza e perché il cliente importante vi dica di sì quali sono i capisaldi del vostro ma innanzitutto la concorrenza non va abbattuta anzi bisognerebbe collaborarci come insegnano nel campo del petrolio che non c'è una grande concorrenza ma c'è una condivisione di intenti questo con carattere emiliano è un po' difficile ottenere ma in generale noi abbiamo sempre cercato delle collaborazioni in qualche caso le abbiamo trovate in qualche caso meno ma riteniamo che siano tutti tutti settori e tutti concorrenti che si applicano per un mondo migliore quindi quando si perde un lavoro bisogna avere la serenità di dire che di là c'è stato qualcuno più bravo di te sul prezzo sul raccontare il progetto sull'innovazione sono questi i punti dove ci si gioca la partita poi c'è anche la credibilità è importante dimostrare che ci sono tanti impianti che funzionano cioè noi abbiamo fatto 550 impianti 90.000 kilowatt di energie rinnovabili geotermico e fotovoltaico e non abbiamo nessuna richiesta di indennizzo assicurativo pur avendo delle assicurazioni a copertura totale della resa degli impianti è un biglietto da visita incredibile ecco ci dispiace un po' quando magari nel mercato non si utilizza proprio la stessa umiltà qualcuno Energy Resource magari va a raccontare qualche qualche brutto aneddoto ognuno di noi non è perfetto però in generale i nostri impianti funzionano tutti sopra la media e lo sanno tanti istituti di credito che stanno ricevendo indietro impianti che non vanno bene perché questo mondo soprattutto noi avete mai avuto so che avete un'assicurazione avete mai avuto reclami per qualcosa che non è riuscito? Noi abbiamo scelto di assicurarci con Zurich che riteniamo sia stata la prima a lavorare nel mondo delle rinnovabili e poi è una delle compagnie più importanti molto importante con altre lavoriamo in altri settori ma proprio sullo specifico assicurazione alla produzione di energia e al mancato rendimento o anche agli errori progettuali o di installazione noi in questi cinque anni abbiamo assolutamente un certificato che dichiara nessuna richiesta di indennizio e dire che insomma questo ripeto è una bella presentazione direi che un cliente se fosse veramente scontento la prima cosa che fa utilizza l'assicurazione è gratis senta a un certo punto il ministro Clini che sta lavorando su un piano per un'Italia sostenibile ha riunito a Milano alcune industrie molto importanti perché come secondo intervento ha chiesto lei che ha parlato subito dopo il ministro cosa che mi ha colpito questo fatto ma innanzitutto io sono stato felice di partecipare con 20 aziende che erano dei nomi che ci facevano sentire piccoli perché c'era Sisco c'era Fiam c'era Moncada c'era Acqua Sant'Anna c'erano dei colossi nazionali e internazionali per noi è stato un onore è stato un grande piacere anche parlare con il ministro perché ho visto una politica nuova e un atteggiamento paritario con gli imprenditori Ecco e questo ministro così attento eccetera perché secondo lei con tutto questo giro di nomi che ha detto adesso che erano presenti ha chiesto a lei di parlare Forse perché siamo tra le poche aziende nazionali che presentano un pacchetto diverso E' di una modestia che ci vogliono le tenaglie per tirare fuori le cose No abbiamo un approccio al mondo delle rinnovabili un po' differente dalla media ci costa tanto di più perché dobbiamo avere più personale una struttura più impegnativa ma facendo già adesso l'efficienza energetica la mobilità sostenibile la costruzione di case edifici industriali a zero emissioni riteniamo di fare come cinque anni fa siamo un pochino un po' più avanti stiamo investendo adesso in quello che sarà secondo noi il prossimo futuro Sta parlando di personale di collaboratori eccetera in genere sono giovani siamo tutti intorno ai 30 anni o anche meno sì sono collaborativi sono entusiasti per il lavoro ma adesso come tutti in Italia subiscono un po' il momento che non è che è così allegro ai fini del risultato la situazione nazionale e internazionale però noi cerchiamo di difenderci bene perché crediamo di essere nel settore giusto e abbiamo questa idea che il mercato ci venga in conto cioè siamo in un mondo in cui c'è sempre più bisogno di sostenibilità quindi non è che ci si riduce non è modesto nei fatti perché aspetta che il mercato gli vada incontro in verità sono loro che aggrediscono felicemente il mercato come è giusto fare è un mix